siamo nel negozio blucher di magenta insieme al titolare francesco bigogno feste di natale perché devo scegliere la sua linea di abbigliamento perché innanzitutto salve a tutti ringrazio della visita francesco perché perché visto che siamo nell'imminenza delle feste di natale come regalo al vostro amico al vostro compagno al vostro fratello vostro fidanzato cosa c'è di meglio di poter regalare un bel articolo blucher abbiamo un assortimento bellissimo di giubbotti di camice di maglioni di pantaloni venite qui i prezzi sono contenuti c'è grande varietà andiamo dai dai pezzi fashion di tendenza a quelli classici si appunto ha detto vostro 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 vendete solo abbigliamento da uomo noi vendiamo abbigliamento da uomo purtroppo blucher da donna non c'è nonostante le grandi richieste dai clienti e conoscenti che entrano in questo negozio non lo so non dipende da me fare la linea da donna io la farei ben volentieri soltanto per adesso la casa madre si è incentrata sull'uomo e penso che sia comunque un gran bel assortimento per quello che è questo negozio ricordiamo a tutti che siamo in via roma 54 magenta davanti alla basilica per cui siamo facilissimamente raggiungibili c'è anche il parcheggio da quando finalmente hanno aperto la strada e quindi dicevo è una bella idea regalo ci sono grandi grandi cose da poter scegliere ci sono di tutti i prezzi noi la nostra clientela va dal ragazzino di 13 anni accompagnato la mamma alla persona di 80 anni che ha voglia ancora di mettersi delle cose un po' diverse grazie e auguriamo buon Natale a chi ci vede grazie a te Francesco grazie a tutti quelli che ti seguono e io vi aspetto qua per questo Natale